Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e benvenuti. Oggi vi voglio mostrare qualcosa di interessante perché quasi all'improvviso, qualche ora fa, finalmente il mio Samsung Galaxy S8 ha cominciato a parlare. E allora, ecco Bixby Voice. Allora, diamo un occhio insieme a come funziona esattamente Bixby Voice che da qualche ora è stata attivata o è stato attivato, è l'assistente virtuale di Samsung, attivato in lingua inglese a livello globale. È specificato tra l'altro nelle impostazioni, nel momento in cui si fa la prima installazione, che presto ci saranno altre lingue disponibili. Intanto funziona in questo modo, per richiamare Bixby Voice bisogna tenere premuto il tasto laterale. Vedete, in questo momento lui sta interpretando essenzialmente quello che io sto cercando di dire. Adesso provo a lasciare adesso il pulsante. Vedete, lui in questo modo elabora essenzialmente tutto quello che ho detto, ma non riuscirà a capire quello che gli ho chiesto. Look like there is a connection problem. Adesso c'è un problema di connessione, allora eliminiamo per sicurezza il Wi-Fi. Riprovo ancora una volta. Open camera. Vedete, io lascio il pulsante e lui mi sta attivando in questo momento la funzionalità. Ma proviamo qualcosa di un po' più sofisticato a telefono spento. Open camera and take a selfie. Vedete che lui essenzialmente gira e ha scattato esattamente quello che gli ho chiesto. Vedete, perfect, got a shot. E quindi in questo momento lui ha realizzato essenzialmente un selfie esattamente come gli ho chiesto. Per accedere a Bixby nella versione normale, vedete, basta premere invece in modo semplice sul pulsante laterale oppure il suggerimento è anche quello di fare un movimento, scusate, se lo schermo almeno questo, torniamo indietro, ecco, questo ci dice un movimento, vedete, laterale da quello che è l'edge opposto a quello invece in cui ci sono i comandi abituali. Ma quali genere di comandi si possono utilizzare? Vedete, in questo modo non appare essenzialmente il comando vocale di Bixby quando non schiaccio il bottone, invece vedevo che, adesso vedete, compare per un secondo il logo di Bixby e poi scompare quando premo velocemente il pulsante laterale. Se invece premo a lungo si attiva Bixby Voice, open, calendar. Ok, vedete, mi sta facendo vedere il calendario, adesso non c'è bisogno di mostrare i miei appuntamenti, nessuno perché nessuno ha voglia di incontrarmi, però essenzialmente, vedete, per scoprire quale altre possibilità avete di fare comandi, vedete, qui c'è la classifica, ad esempio, dei top 100 dei comandi più utilizzati in Bixby. Oppure, se volete, vedete, in questo modo potete fare la ricerca dei comandi e trovate essenzialmente tutti i comandi che potete utilizzare con Bixby. Open clock and delete all my alarms, quindi aprire, ad esempio, l'orologio e cancellare tutti gli allarmi. Oppure, open clock and set a timer for five minutes, in questo caso si mette un, diciamo, timer, quindi per, ad esempio, non so, in cucina, quando avete bisogno di controllare la cottura della pasta. Open clock and change my 7 a.m. alarm to 6.30 a.m. Quindi avete, ad esempio, qua tutte le possibilità di interazione con il vostro orologio. Avete la possibilità di fare zoom in ingresso e in uscita, di fare addirittura lo scrolling delle vostre immagini. Avete la possibilità di tornare indietro, vedete, di accendere e spegnere la rotazione. Avete veramente un miliardo di comandi. Io credo che la cosa più complicata di Bixby sarà quello di veramente imparare tutto questo genere di interazioni. Apri messaggi e cancella tutti i messaggi e le conversazioni che hanno la parola David, la keyword, la parola chiave David. Apri messaggi e mostrami le foto delle conversazioni con Davide. Vedete, a seconda delle applicazioni che voi utilizzate, le interazioni sono veramente tantissime. In questo punto potete, ad esempio, andare alla ricerca delle interazioni con l'applicazione Contacts. Vedete, no? Avete, apri l'applicazione telefono e spegni, nascondi i contatti senza numeri. Allora, il vero lavoro sarà andare a scoprire tutto ciò che si potrà fare con il proprio telefono. Ripeto, per il momento solo in inglese. Guardate, ad esempio, quante interazioni potete svolgere con la telecamera. Apri Samsung Notes e search e cerca le note che contengono una parola meeting. e quindi accendi la camera frontale. In alcuni casi delle interazioni, che onestamente sono un po' anche, lasciano un po' il tempo che trovano, però, insomma, giusto per darvi un'idea, questo è lo scrolling delle interazioni che potete avere con la vostra telecamera. Devo dire che sarà abbastanza complicato riuscire a impararle tutte. Io volevo vedere, ad esempio, quante chiamate, in quale modo si può sfruttare un'interazione chiara. E veramente sono tantissime. Allora, abilitato per il momento in lingua inglese, aspettiamo a questo punto di sapere quando succederà questa stessa cosa anche in italiano, ma le anticipazioni erano che avremmo dovuto attendere almeno fino al periodo di Natale. Adesso vado un po' a studiarmi Bixby e poi magari nei prossimi giorni torniamo ad aggiornarci su questo argomento. Ciao! Ciao!